presentava la Sintra 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 grazie Francesco Antonio Sciscoli che oltre a rappresentare la banda di Ordona è un nostro stretto collaboratore noi ci rivolgiamo sempre a lui quando abbiamo bisogno di aiuti musicali grazie Antonio un saluto e un ringraziamento alla banda di Malta e a tutti i presenti di questa sera grazie e alla banda di Monte Sant'Angelo ovviamente cosa è seguita adesso maestra? adesso come tradizione vuole nei raduni dovremmo un po' compattarci sotto al palco pubblico permettendo per eseguire insieme Radeschi March e Inno di Mameli quindi sarà un momento di condivisione musicale grazie beh allora vi lasciamo andare per eseguire questi brani volete dare l'attacco da qua? no andate da Mattia l'attacco da qua allora Mattia darà l'attacco per tutte le bande magari se riusciamo a liberare la parte centrale ok? e dopo i due brani i saluti finali del sindaco e c'è anche uno scambio di doni con il comitato di Malta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Abbiamo qui il Presidente del Comitato per Stavodonare di Monte Sant'Angelo, a cui lascio la parola per un attimo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.